Ben ritrovata ad un nuovo appuntamento con le previsioni da Claudia Fasola di Trebi Meteo. Vediamo nel dettaglio da lunedì che cosa succederà sulla penisola. Correnti d'aria più fresca provenienti dai settori settentronali si porteranno verso le regioni adriatiche, quindi portando una rinfrescata generale alle temperature, ma in particolare da segnalare temporali di forte intensità sull'arco alpino. Passiamo alla prossima immagine e vediamo come nel dettaglio le correnti d'aria si sposteranno da nord verso le regioni adriatiche. Le temperature subiranno una decisiva diminuzione anche per il resto della settimana, quindi il caldo si ritira. Questo è un dato molto importante e quindi vi farà sicuramente piacere. E con questo è tutto, vi auguro una buona continuazione per gli aggiornamenti scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.